La perfetta salute e il pieno risveglio sono in realtà la stessa cosa. Tartang, Tulku. Assumersi la responsabilità della propria salute e della propria felicità. La sofferenza è un correttivo che mette in luce la lezione che non avremmo compreso con altri mezzi e non può essere eliminata fino a quando quella lezione non è stata imparata. Eduard Bach Non possiamo parlare di metamedicina senza tener conto della legge di responsabilità, giacché essa costituisce la condizione di base per una vera guarigione. Quando studiavo microbiologia, interrogavo i miei professori per sapere da dove provenissero i microbi. Batteri, virus, parassiti, ecc. E mi rispondevano che questi agenti patogeni provenivano da contaminazioni. Accettavo la cosa continuando però a chiedermi dove la prima persona avesse potuto contrarre il microbo. Mi adeguai Paga della massa di conoscenze che esploravo nel mondo affascinante dei microorganismi. Mi adeguai soddisfatta della massa di conoscenze che esploravo nel mondo affascinante dei microorganismi. Ma i miei interrogativi erano latenti. Quando cominciai a lavorare in ospedale, cominciai a chiedermi perché il tale si ripresentasse di continuo con infezioni urinarie e la tal altra con vagginiti a ripetizione. Ricordo in particolare un uomo anziano con la tubercolosi che praticamente non usciva mai di casa. I pochi visitatori che riceveva non avevano il bacillo di Koch a cui si attribuiva la sua malattia. Dove mai aveva potuto contrarre quell'infezione? Intuitivamente, sapevo che gli esseri umani possiedono la capacità di sviluppare la malattia sia attirando l'agente infettivo mediante la frequenza vibratoria sia destabilizzando le molecole delle proprie cellule consentendo in tal modo lo sviluppo di una patologia. Ma quando mi azzardavo a proporre questa ipotesi tutti mi deridevano. Il Mahatma Gandhi diceva L'errore non diventa verità solo perché si propaga e si moltiplica e la verità non diventa errore solo perché nessuno la vede. Assumere la responsabilità di ciò che viviamo significa riconoscere e accettare che i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri atteggiamenti proprio come le lezioni che bisogna imparare nella nostra evoluzione abbiano dato luogo sia alle situazioni felici e infelici in cui siamo imbattuti sia alle difficoltà o alle gioie che viviamo attualmente. Quando nei seminari e nelle conferenze tocco questo tasto spesso la gente ribatte Se un bambino nasce malato non sarà mica colpa sua Se mio marito ha perso il lavoro è perché l'azienda in cui lavorava ha chiuso non ha nulla a che vedere con lui Come a dire che se ho mal di schiena sarebbe colpa mia Non pensavo che uno potesse fabbricarsi una malattia È davvero ingiusto Mio figlio che non ha fatto male a nessuno sarà disabile tutta la vita mentre ci sono dei criminali che stanno benissimo Il mio secondo padre diceva C'è un'unica giustizia sulla Terra ed è la morte Tutte queste riflessioni traducono un'incomprensione della legge fondamentale della responsabilità Molto spesso confusa con il senso di colpa È questa confusione a renderla difficile da accettare agli occhi di molte persone che la leggono così Se questa situazione o questa malattia me la sono creata io allora sarebbe colpa mia se sto male Questa chiave di lettura è sbagliata ed è per molti di noi dovuta al tipo di educazione religiosa in cui siamo cresciuti La cultura giudaico-cristiana ci ha insegnato ad affidarci a un potere superiore Dio e che se agiamo secondo i suoi comandamenti e pratichiamo azioni meritorie veniamo ricompensati in questa stessa vita o dopo la morte Se invece non obbediamo ai suoi comandamenti o a quelli della chiesa ci attende una punizione Su questa base alla prima difficoltà inattesa e inspiegabile automaticamente ci viene da pensare Cosa ho fatto di male perché debba capitare questo proprio a me? Oppure cerchiamo un responsabile esterno Ci deve essere per forza un colpevole Così Quando una situazione ci fa soffrire abbiamo preso l'abitudine di colpevolizzarci credendo di essercela meritata Oppure ne accusiamo altri o addirittura Dio Quando dico che essere responsabile della situazione significa che mi riconosco quale creatore di ciò che vivo Non intendo insinuare che ho creato deliberatamente una situazione gradevole o sgradevole ma che bisogna accettare e riconoscere che i nostri pensieri il nostro sentire i nostri atteggiamenti o le lezioni che è necessario integrare nella nostra evoluzione hanno generato le situazioni che ora stiamo vivendo La legge della responsabilità di conseguenza non ha nulla a che fare con il merito o la punizione con la fortuna o la sfortuna con la giustizia o l'ingiustizia oppure con la colpa riguarda solo il concatenarsi delle cause e degli effetti Noi siamo forse liberi di accettare una convinzione o di rifiutarla? Non siamo forse liberi di accettare una convinzione o rifiutarla? di scegliere le parole di cui ci serviamo? Di interpretare una parola o una situazione? Non siamo forse liberi di amare o di odiare? Di accusare o comprendere? Di dire male o di dire bene? Non siamo forse liberi di guardare la verità in faccia o di mentire a noi stessi? Di reagire o di agire? di alimentare la paura o di avere fiducia? Sì noi siamo liberi liberi di pensare di provare sentimenti di avere le nostre convinzioni i nostri atteggiamenti di fare le nostre scelte sebbene abbiamo tutti quanti questa libertà intera non possiamo sfuggire alle conseguenze di ciò che scegliamo di dire di fare e di credere forse sei pronto a riconoscere il peso delle tue scelte e delle loro conseguenze ma forse penserai se una persona è al volante e un'altra la investe in pieno non avrà mica scelto lei di avere un incidente no certamente e tuttavia che cosa è accaduto prima dell'incidente perché questa persona si trovi in quel contesto vediamo una situazione che è capitata a me quando avevo undici anni un bel giorno d'estate mia sorella mi dice che va a fare una gita in bicicletta con un'amica un po' più grande io vado dalla mamma a chiederle il permesso di poterle accompagnare e mia madre risponde non se ne parla neppure tu sei troppo piccola tu resti qui per me la cosa non aveva alcun senso dal momento che mia sorella aveva solo un anno più di me presi dunque la bicicletta all'insaputa di mia madre e le raggiunsi tutto all'andata andò bene ma sulla via del ritorno cominciò a piovere all'improvviso la catena della mia bici uscì fuori dalla ruota dentata e l'amica di mia sorella luce per non perdere tempo mi passò la sua bici nuova di zecca dicendomi adesso aggiusto la catena della tua e poi vi raggiungo procedevamo in fila indiana lungo l'autostrada sull'asfalto viscido una macchina uscì di strada e mi investì fece un salto acrobatico di alcuni metri e atterrai sull'asfalto ebbi una lieve commozione cerebrale una slagatura della caviglia sinistra e mi feci uno strappo al muscolo della natica ne ebbi per una settimana abbondante di ospedale perché quella macchina non aveva investito mia sorella o la nostra amica luce perché io perché furono colpiti questi organi invece di altri prendendo le distanze oggi posso fare il collegamento tra il senso di colpa di aver disobbedito a mia madre e l'incidente avevo voluto fare di testa mia e avevo avuto una commozione cerebrale mi ero sentita in colpa per essere andata in spiaggia sfidando l'autorità materna e mi si era rotto il legamento della caviglia e inoltre temevo le sculacciate di mio fratello mi diedi dunque la sculacciata da sola con il senso di colpa da cui la lacerazione del muscolo della natica sinistra ci si può anche chiedere perché la catena della bicicletta fosse uscita dalla ruota dentata era forse una prima manifestazione del senso di colpa giacché mi impediva di avanzare in questo ordine di idee perché fu la bicicletta di luce a essere danneggiata invece della mia forse che luce si sentiva a sua volta colpevole di andarsene in giro con una bicicletta costosa nuova di zecca mentre le nostre erano vecchie sebbene oggi non possa verificare la cosa sono portata a crederlo nulla è frutto del caso questa verità fondamentale è a volte manipolata per esempio da certi leader che per far leva sui loro adetti dicono il caso non esiste e se sei venuto qui è perché hai bisogno di noi è giusto dire che non esiste il caso e tuttavia l'interpretazione che si può dare di questa affermazione non è necessariamente quella giusta può darsi che una persona si trovi in un gruppo per imparare a dire di no oppure per impiegare il proprio discernimento lo stesso Buddha diceva non credete a me verificate sperimentate e quando saprete da voi stessi che qualcosa vi è favorevole allora seguitelo e quando saprete da voi stessi che qualcosa non vi è favorevole allora rinunciatevi un senso di colpa può essere la causa di incidenti problemi o altre forme di autopunizione osserva e trae le tue conclusioni puoi verificare se hai già avuto un incidente che cosa stavi vivendo prima di esso un incidente a un piede o alle gambe può essere facilmente collegato a un senso di colpa per il fatto di precedere qualcuno che invece fa da freno a meno che non siamo noi che a nostra volta ci rifiutiamo di avanzare un incidente a un dito può essere collegato a un certo perfezionismo ci si può sentire colpevoli per aver eseguito un lavoro troppo in fretta o senza troppa cura la simbologia del corpo può aiutarci a stabilire questo collegamento tra un incidente e ciò che provavamo prima che accadesse d'ora in poi se ti capita un incidente piccolo o grande che sia chiediti se ti sentivi colpevole di qualcosa o se ti trovavi in una situazione che ti pareva senza via di uscita da cui forse questo incidente ti ha liberato i sensi di colpa non si manifestano soltanto con gli incidenti possono avvelenarci la vita distruggerci la salute le occasioni per aver successo e condurci a vivere perdite e fallimenti impedendoci di essere felici approfondiremo l'argomento nel capitolo il senso di colpa e le sue ripercussioni come liberarsene ora forse sei pronto ad accettare le conseguenze delle tue scelte può darsi che tu sia convinto che nulla è frutto del caso per quanto riguarda gli eventi che incontriamo nella vita per esempio gli incidenti puoi accettare l'idea che un senso di colpa sia in grado di generare una forma di autopunizione che si manifesta con perdite con il rompersi di oggetti che possediamo o con certe malattie puoi ammettere che altri atteggiamenti mentali sentimenti o emozioni possano a loro volta avere ripercussioni sulla nostra vita questo mi conduce a parlarti delle frequenze vibratorie ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita condividi nei commenti la tua esperienza metti mi piace e iscriviti al canale di Doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo nel prossimo video iscriviti al canale di dole